Un peso morto, un organismo in stato di morte cerebrale. Così il presidente francese Emmanuel Macron descrive la Nato in un'intervista rilasciata al settimanale di Economist. Secondo Macron, la mancanza di coordinamento tra Stati Uniti ed Europa e il comportamento unilaterale tenuto dalla Turchia in Siria starebbero rendendo l'alleanza atlantica una scatola vuota. Siamo sull'orlo di un precipizio, ha dichiarato Macron, e stiamo assistendo alla morte cerebrale della Nato. Parole accolte con sdegno dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal segretario generale Nato Jens Stoltenberg che ora rischiano di scatenare un polverone sotto l'ombrello atlantico. Il presidente francese ha scelto parole drastiche, ha dichiarato Merkel. Io non condivido il suo punto di vista sulla cooperazione in seno alla Nato. Credo che una dichiarazione del genere non fosse necessaria, anche se abbiamo problemi e l'alleanza è perfettibile. Sono d'accordo con la cancelliera, ha detto Stoltenberg. La Nato è forte e Stati Uniti, Nord America ed Europa stanno facendo insieme più di quanto abbiano fatto per decenni. Dalla fine della guerra fredda abbiamo rinforzato come non mai la nostra difesa collettiva. Una frenata è arrivata anche dalla Casa Bianca. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha ribadito la richiesta americana di una migliore condivisione circa l'onere finanziario della Nato, ricordando però a margine di una conferenza stampa all'Ipsia come il fatto atlantico resti storicamente una delle più importanti partnership strategiche. Applausi invece da Mosca che ha definito quella del presidente francese una diagnosi sincera. Parole d'oro.